Siamo alla Borsa del Turismo Mediterraneo 2024, Fiera delle Valle del Bari, presso lo stedio di Fonditalia. Abbiamo il gestore dei trasporti della STP, il gestore pubblico di Bari, Bartolomeo Maiullari. Benvenuto Maiullari. Grazie a voi per la disponibilità. Come azienda state facendo un percorso di formazione molto importante con Fonditalia. Ci teniamo molto la formazione dei nostri documenti. Abbiamo iniziato due corsi di formazione. Uno per l'operazione di esercizio, per l'utilizzo del cronotachimia, tra l'altro per il nostro front office, il nostro diadette all'esercizio, per il nostro ufficio commerciale, per quanto riguarda il corso di esercizio. Ci rendiamo e perseguiamo questo obiettivo che riguarda la formazione di esercizio. I numeri sono molto importanti. Voi avete 207 dipendenti, circa 180. La quasi totalità è stata ed è coinvolta da questi percorsi di formazione. Sì, perché 150 dipendenti autisti o per l'utilizzo di esercizio è una riferente parte per quanto riguarda il corso di esercizio. Ma siamo sempre sul pezzo per quanto riguarda la formazione. Ovviamente dobbiamo essere anche per seguire nuove naturalità, nuovi corsi per dare la possibilità a tutti i compagni. Quindi possiamo dire che Fondo Italia è un partner della nostra azienda per accrezzere competenza e essere sempre competitivo sul mercato? Assolutamente sì, è un legame di solito. Grazie.